1,2,3 siamo qui oggi a shoppare la ghoul trooper e ho shoppato il pacchetto di 5 euro abbiamo tre ragazzi shoppiamo la ghoul trooper 1,2,3,3 via bello bra, milite ghoul, io fratmo bello ragazzi, hai visto? no, pur io secondo qualcuno sa il pacchetto è in opera, è brutto ecco ragazzi, la ghoul trooper, bellissima, ho anche la skin di 5 euro, guardate bellissima, lasciatela che iscrivetevi al canale, bello ragazzi, gg